cari amici ben ritrovati sempre più videomaker stanno utilizzando lo smart device e pensano di comprare un telefonino con capacità e possibilità incredibili in ambito video proprio perché la tecnologia sta portando il telefono ad essere una vera e propria telecamera e è senza ombre di dubbio comprovato il fatto che il telefonino può diventare un valido supporto in alcuni soprattutto in alcuni contesti vedi i contesti in cui si fanno eventi e quindi spesso e volentieri si ha bisogno di una camera ausiliare oppure nei contesti di live streaming dove quindi c'è è indiscutibile il fatto che il telefono possa dare sia supporto video che audio che anche di comunicazione diretta con youtube i social e quant'altro insomma il telefonino sta diventando una vera e propria videocamera ed è per questo che pensare a uno strumento come quello che vi sto per presentare può essere assolutamente più che lecito logico e tra le altre cose intelligente parliamo del P1L un microfono che va ad ampliare non di poco le possibilità in ambito video ma audio se è vero infatti che i nostri telefoni stanno crescendo da un punto di vista video i costruttori si trovano sicuramente più in difficoltà per quello che riguarda l'audio ma perché perché chiaramente il microfono avrà sempre la difficoltà di non avere un microfono direzionale e di non avere la gettata la portata che può avere appunto invece un microfono diciamo attaccato sul corpo così come in questo momento sul corpo della persona che sta parlando è infatti chiaro ed evidente che una persona che si allontana dal telefono chiaramente viene ad essere captata in maniera sicuramente più dispersiva rispetto ad avvicinarsi tantissimo al microfono del telefono per questo motivo nasce il P1L lo vedremo fra poco è un microfono a tutti gli effetti lavalier quindi che si può attaccare alla nostra giacca al nostro petto e che restituisce un suono assolutamente più che professionale garantendo a professionisti e non che si occupano di interviste di video blog di video contenuti di eventi ecco di poter realizzare un video dall'audio professionale cosa che vi ricordo rappresenta il 50 per cento del valore del vostro video provate a vedere un video con un audio scadente vi accorgerete che quel video seppur di qualità in qualche modo vi allontanerà dall'interesse al video stesso qualche nota sul P1L 50 metri non in linea d'area di raggio d'azione significa che potete utilizzare fino a 50 metri di distanza anche girando le spalle al microfono oppure andando dietro un muro e il microfono farà ancora il suo lavoro e non perderà il segnale o addirittura fino a 150 ha visto dei test fino a 200 metri in linea d'area quindi con microfono e trasmettitore che si parlano senza ostacoli di mezzo ecco caratteristiche e potenzialità veramente lodevoli cinque ore di autonomia solo il trasmettitore porta con sé una batteria perché il ricevitore è attaccato al nostro telefonino e gode dell'alimentazione tramite il telefonino quindi dobbiamo ricaricare solo il trasmettitore che ripeto va avanti per cinque ore senza sosta ma andiamo a vederlo da vicino e quindi apriamo il nostro cofanetto come vedete questa è la scatola eccolo qui all'interno abbiamo le istruzioni in lingua inglese questo è l'involucro la scatolina che contiene appunto i microfoni eccola qui come vedete piccolissima da mettere nel nostro zaino veramente elegante oltretutto e la scatolina può essere con un semplice clic aperta in questo modo guardate quanto è efficace elegante qui vedete la luce rossa il che significa che in questo momento il power bank anche se aperto sta alimentando e sta caricando il nostro dispositivo microfono tra le altre cose piccola nota immaginate di essere impegnati in un matrimonio ecco voi mentre che siete in macchina intanto lui ricarica il microfono magari tra una avete fatto la cerimonia quindi siete state in chiesa avete utilizzato il microfono lo rimettete nel power bank e quando arrivate al ristorante chiaramente questo è un esempio lui si è auto rigenerato è pronto per prendere magari degli speech ulteriori fermo restando che comunque potrebbe andare avanti come vi dicevo per cinque ore quindi nella carica chiaramente sarebbe più che sufficiente però ecco avete anche questa possibilità di ricarica mentre non lo utilizzate in maniera continua prima di vedere come è composto nella scatola abbiamo anche due cavetti che sono un cavo usb c barra usb che consente appunto di ricaricare a mezzo di connessione in questo modo praticamente il dispositivo power bank e una connessione da usb c a mini jack da tre e mezzo che può essere collegata adesso ve lo faccio vedere al ricevitore per poter ascoltare in cuffia il segnale che sta captando il telefonino ma vediamolo da vicino ecco qui il contenuto del nostro power bank apriamo e tiriamo fuori i due elementi nel momento in cui tirate fuori in particolare il trasmettitore vedete che si illumina in cerca del suo ricevente che chiaramente entrerà in funzione nel momento in cui lo agganciamo al nostro telefonino in questo modo da questo momento vedete che si è acceso e automaticamente i due dispositivi hanno iniziato a dialogare vedete che fanno hanno cambiato in modalità la modalità di illuminazione e stanno parlando tra di loro non dovremo far altro che aprire una sorgente d'acquisizione che può essere il nostro la nostra fotocamera in modalità chiaramente video e quindi l'audio che prenderà da questo momento sarà quello appunto del suo ricevitore collegato qui oppure vi potete avvalere di un normale registratore e quello che viene catturato vi faccio vedere è quello che prende appunto il nostro trasmettitore il nostro microfono che deve semplicemente a mezzo di clip essere agganciato sulla giacca di chi sta parlando questa modalità di ripresa può essere pensata sia per un intervistato ma anche per un audio aggiuntivo ausiliare pensiamo ad esempio alle condizioni di una ripresa matrimoniale magari avete usato il vostro principale microfono da attaccare allo sposo ma portate con voi anche il vostro P1L lo attaccate alla cassa di diffusione della chiesa o lo mettete sul podio dove si vanno a fare le letture insomma dove volete catturare un audio aggiuntivo e quindi con il vostro telefonino vi portate a casa un secondo audio di estrema qualità e in tutta sicurezza come vi dicevo potete agganciare qui sotto ecco con usb c praticamente il vostro cavetto e da qui collegate un paio di cuffi e ascoltate il suono che arriva direttamente al ricevitore ancora due note prima di ascoltarlo dal vivo qui avete un tasto che serve semplicemente tasto rosso che serve a spegnere il trasmettitore perché può essere utile spegnerlo beh sicuramente essendo lui l'unica fonte che va a batterie se non lo utilizzate potete spegnerlo e risparmiare quindi batteria sul ricevitore invece avete un unico tasto che è questo qui che vedete piccolino qui sotto non so se riesco a farvelo vedere eccolo qui ecco questo tasto praticamente serve a cambiare degli effetti infatti ve lo farò sentire fra poco il nostro P1L è in grado oltretutto di simulare alcuni tipi di effetti e vedremo anche a che cosa possono essere utili ora andiamo a sentirlo dal vivo per capire la qualità la bontà del suono e quindi renderci conto anche di quale sono le sue potenzialità in ambito professionale ed eccolo qua ragazzi è attaccato la mia felpa sentite e vi faccio sentire adesso il suono quindi spero che dal io sto ascoltando in cuffia per capire appunto ho collegato l'usbc come vi ho fatto vedere prima sto ascoltando il suono che arriva direttamente dal microfono che sta trasmettendo il segnale mi allontanerò fra un poco perché vi voglio far vedere capire la differenza tra il suono intanto del microfono 5 rispetto al microfono dell'iphone che seppur buono chiaramente avrà difficoltà a seguire la mia voce da lontano quindi primo test mi allontano con il microfono e vediamo fino a quanto riuscirà il 5 a mantenere valido il suono ok questo è il microfono io adesso mi allontano e andiamo a vedere quindi che cosa succede sono circa 3 4 metri il suono del pie 1l è questo che sentite vado ancora avanti anzi indietro vedete sto qui giù ok sono circa ormai a 20 30 metri e questo è il risultato come potete vedere possiamo ascoltare la mia voce in serenità e in presenza assolutamente di segnale non danneggiando non rovinando la stessa a causa della distanza dal telefono che sta registrando facciamo lo stesso test staccando il microfono e quindi riprendendo con il microfono dell'iphone e ascoltiamo quale sarebbe il problema eccolo qui medesimo test sono vicinissimo al telefono circa un metro la distanza del mio braccio e questo è il suono che riprende il microfono dell'iphone adesso mi sposterò per vedere cosa succede chiaramente in diciamo in assenza del microfono attualmente lo sto toccando vedete sto riprendendo con il suono del telefono quindi mi allontano e sentiamo che cosa potete valutare con il suono del microfono iphone stesso test mi allontano andando alla stessa distanza per capire un po quello che è il suono che il telefono riesce a prendere con il suo microfono chiaramente potete immagino valutare che è cambiata la scena l'audio del microfono dell'iphone non ha potuto coprire la distanza e non ha dato lo stesso risultato se vi sta venendo in mente qual è il contesto in cui una persona si può allontanare così immaginate chiaramente di trovarvi nella condizione di intervistare qualcuno che in qualche modo si allontana un pochino dal telefono e quindi vi perdete un po tutto quello che è il suono cambio scenario mi sono spostato all'interno della mia abitazione perché volevo darvi anche riscontro di come il segnale venga ripreso all'interno di un ambiente quindi darvi un suono anche interno in questo test inoltre vi faccio vedere anche quali sono gli effetti che è possibile riprodurre con questo microfono 5a si pensato a una trovata interessante di utilizzo di questo microfono ma purtroppo si potrebbe migliorare la tipologia e la modalità con cui è stato fatto vi spiego il primo effetto che è stato inserito anzi i primi due effetti che sono stati inseriti sono riverberazione quindi creare un alone di suono che può essere utile nei contesti ad esempio di musica live pensate di essere un musicista che vuole in qualche modo fare una diretta streaming o una registrazione da magari mandare su su tiktok o su facebook eccetera spesso e volentieri un cantante può essere migliorata l'esecuzione e comunque il suono della voce nonché del proprio strumento a mezzo di aggiunta di reverbero che rende più meno secco il suono è un po più attraente il tutto però qui è stato fatto un piccolo errore i primi due effetti che sentiremo sono reverbero lungo e lunghissimo sarebbe stato carino poter fare un reverbero meno lungo e uno un po più lungo invece adesso vi faccio sentire ecco questo si chiama studio effetti è il primo degli effetti e già è molto esagerato il suono sentite che è molto reverberato sembra che già sto all'interno di un auditorium gigantesco questo è il secondo effetto tv effetto sinceramente non so quale tv effetto può essere una cosa del genere è esageratamente tanto troppo l'effetto applicato voice amplification questo è un altro effetto che anche in questo caso è enormemente esasperato c'è troppo reverbero altro effetto electronic dance music l'elettronic voice non va in abbinata con un reverbero e qui si passa alla voce modificata molto interessante nei casi in cui si vuole camuffare il suono per rimanere anonimi peccato che non ha senso aggiungere l'effetto questo è l'effetto che consente anche in questo caso di camuffare la voce per passare da maschio a femmina che cavolo c'entra il reverbero da donna a uomo adesso io sono un uomo quindi la mia voce viene decurtata ulteriormente di un pitch ma anche qui non ha nulla a che vedere il reverbero questo è il classico effetto che conosciamo che sentiamo ad esempio su le iene per camuffare appunto completamente la voce e rendere impossibile riconoscerla si chiama monster effect ma anche qui effetto reverbero non ha senso e ritorniamo all'effetto original che è chiaramente la modalità più consona di utilizzo ben ritornati abbiamo visto quindi le potenzialità e le abbiamo ascoltate soprattutto per chi è adatto questo microfono beh sicuramente innanzitutto per coloro che fanno contenuti per il web mi riferisco ad esempio a chi fa interviste giornalismo ma anche chi fa contenuti per il web come in questo caso come me oppure coloro che utilizzano a livello professionale per la propria azienda per il proprio business il telefono per le riprese video che vogliono in qualche modo allontanarsi dal telefono e hanno la necessità di avere comunque un audio di qualità non variare il suono in funzione della distanza dal dispositivo è fondamentale oltre al fatto di avere un audio in suono più diretto di maggiore qualità abbiamo visto anche l'esempio ma aggiungerei che questo microfono si rende veramente utile a coloro che fanno eventi eventi aziendali e eventi matrimoniali ad esempio e come vi dicevo pensate di utilizzare questo microfono come unità di backup o a volte anche di audio principale non dovendo con voi portare un microfono aggiuntivo tipo uno zoom tipo un registratore a parte che necessariamente diventa più scomodo voi con il vostro telefonino decidete quando entrare o uscire dalla registrazione prendere solo l'elemento che vi interessa in chiesa spesso e volentieri quando utilizzo uno zoom ad esempio un registratore lo faccio partire all'inizio della cerimonia e lo fermo a fine cerimonia portandomi dietro una quantità di audio inutile ecco potete pensare invece in questo caso alla possibilità di registrare solo in momenti in cui è veramente necessario avere audio e lo farete direttamente con il vostro smartphone metterete il trasmettitore vicino a una cassa sul podio di lettura eccetera e farete rec e stop solo nei momenti in cui vi servirà l'audio non andando così a gravare su quantità di peso di file e soprattutto di ricerca poi di quello che avete catturato tutto ad un prezzo assolutamente no abbordabile di più è un prezzo bassissimo circa 100 euro che potete acquistare tra le altre cose nel link che vi lascio in descrizione apro e chiudo parentesi vi lascio anche un coupon di sconto per poter decurtare il prezzo e poterlo acquistare a un prezzo sicuramente più vantaggioso detto questo vi invito a lasciarmi i vostri commenti a dirmi come la pensate e se ritenete che sia un valido supporto io vi ringrazio tra le altre cose la prossima volta che parleremo di audio vi parlerò di un altro microfono questa volta più indirizzato a un audio professionale di qualità estrema addirittura nell'ambito musicale e questa dimostrazione di quanto questa casa la Synco stia puntando sempre più a raggiungere un po' lo spettro intero di audio che va dall'utile al professionale estremo alla qualità estrema con prodotti che sono però alla portata di tutti in termini economici detto questo vi ringrazio sono a disposizione per vostre domande mi raccomando a voi non costa niente quindi iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le novità che possono in qualche modo fare la differenza nel vostro lavoro di tutti i giorni in ambito professionale fotografico e video vi saluto al prossimo